Una modesta saccatura giunta nelle ore scorse sull'Italia tende a spostarsi rapidamente verso il sud, favorendo un progressivo aumento della pressione anche sulle nostre regioni, pressione livellata intorno ai 1020-1022 ectopascal. In Toscana, domenica 17 marzo, poco nuvoloso in mattinata, salvo nubi basse, nebbi o foschie sulle zone centrali della regione, velato nel pomeriggio sera con nubi temporaneamente anche consistenti, venti deboli di direzione variabile, mari poco mossi, temperature in calo le minime, in aumento le massime. Sul territorio provinciale da coperto fino a nuvoloso, localmente velato, a Lucche sulla Piana temperatura minima 8, massima 17 gradi, a Castelnuovo-Garpagnane zone montane minima 4, massima 17, a Via Regge sul litorale minima 9, massima 16 gradi, lunedì nuvoloso molto nuvoloso, non esclusi isolati piovaschi nel pomeriggio.